cosa succede vediamo se eccola è la prima notificazione quella madonna la mia e la tua non sembra vera la cosa no carl frang vediamo quanto arrivano subito così in prima non ne sta improvvista a ver aiaiaia la vedo presa l'avevo presa male qui 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 t'ho visto ser chiapone una quinta o la clau che dalle stars bella ratti quanto tempo non mi sentivo ragazzi a te un saluto come Gus hola nova auto che fa gus 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 how are you doing toast? come stai tutti ragazzi? tutto bene correcto carl exatto ben ricordato chiaro chiaro tutti che siamo Ramirez hola Gustavo Ramirez Gustavo Ramirez è il secondo Gus è il secondo lo chiamo è un ritmo tropical dammi il potenziamento ciao Wanda escare poi qualcuno ha parlato marviglio marviglio 1 2 3 marviglio molto bene mi allegro che stai spiegando è morto frizzi e quindi diamo un on air on air on air vediamo cosa succede se i piccoli bastardi i piccoli spezzacuoli parteciperanno allora io ti dico una cosa che era da fare è lo test audio il test audio una cosa che era da fare voilà 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 audio ok tactical sniper incoming coming non incoming no che è successo ok dov'è ok allarme allarme tactical sniper eccolo ma questo vuoi farlo scemo con me eh e il tiro chiede di tontear conmico con la broccia è in serio Milo hai cambiato nome grande si chiama adesso Igo di Milo che bello hai anche cambiato foto no mi sa ucce entro the match entro the match da vicino a me eee quindi ragazzi come va la giornata chicos che tal va vostro dia alcuni si hanno rispondito si alcuni ti dicono che sia genial a ver qual'altro e altri che tiene la ebola no no nessuno tiene la ebola no vale la ebola per la prossima la ebola buon invento è mascolino la ebola no non può essere un maschio che finisce con la ma questo veramente ci crede sto scemo scemo pagliaccio parapapira parapapari parapapira parapapapa clau stai di vacaciones però di vacaciones di vacaciones o solo vacaciones di no colegio oggi saletta ti chiede che sei felice che ti potrà disturbare con il cecchino dilla saletta che oggi neanche la vedo traducilo in tutte le lingue che sai così se la mette in testa no no che oggi sono in versione pro player solo no e ma wiu subito dice sara io lo disturbo sciau sciau qui c'è già la vale vale manu te speramos hola manu questa cosa una è nella prima del partito in che è ma oggi hai dovuto cancellare i miei amici mi sembra manuela no chissà di sì no 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 sicuro manuela è molto difficile che la vuoi guardare vale vale no 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 ma wiu non tu non tu non hai visto la scena c'era un cecchino fai due minuti fa se poi vuoi rivedertela che era lì che stava cecchinando io gli sono arrivato alle spalle camminando non l'ho ammazzato ok l'ho visto che si muoveva e poi l'ho ammazzato dopo mi ha detto sto scemo pagliaccio sta fermo qui tu non sei scemo pagliaccio tu sei uno Sniper Pros Bendy gioia Minecraft su Switch ok Bendy siamo davvero felici per te ma wiu non posso non potrei però sarei più noob dal solito ancora perchè lui sta usando il mio controller e io con i joycor veramente faccio pena io sono 15 e che dovremmo essere? io mi sento abbandonato storia triste Milo mamma mia Milo allora tost we will start the lobby in one match more più perchè io sono ammazzato io ho iniziato a giocare 5 minuti quindi fortunali e dilla a Zeb hi Zeb che ieri sera abbiamo fatto la live di Mario Kart e non c'era Zeb un altro round voglio giocare Minecraft con te potremmo uscire per favore ehm ehm Bendy Frank tu non giochi a Minecraft mhm ci sono molte persone qui che potrebbero avere il gioco nella nostra comunità ma infine non abbiamo Minecraft oh e quando dormi ah ok ok è una pietà magari possiamo coincidere un altro giorno sì tosti sì tosti oggi abbiamo giocato Mario Kart ma l'avevo la live perchè abbiamo troppo copyright Mario Kart è Mario copyright non Mario Kart Mario coffee Hi Bowser non abbiamo mai mai giocato Minecraft questo è curioso tantissima gente chiede per questo gioco oh abbiamo ancora molti nuovi gioco che abbiamo comprato abbiamo già giocare i nostri gioco accumulati sì Carlo stiamo facendo tutto lo possibile per legare in questi giorni a chi ne entra si già abbiamo la cosa uuuuuh eccia è divertente che tal che tal io ero in mt sono online quindi mi pensavo che erai al vivo Oh, è buono Zeph, è un buon pensiero che stai facendo. In Discord sempre diciamo che siamo all'interno, quindi dovresti sempre essere notificato. La notificazione di YouTube non funziona. Sì, hai un luogo. Dì una cosa di scriverlo. L'ho detto già, non so se hai sentito. Non so cosa dici. Ah, vale, sei imparato. Hai un luogo. Come facci? Come facci? Con Elgato. Elgato videocattura. Video capture car? No. Sì. Sì, Claudia, 8. Quedaros qui a vedere se succede. Lo sigo di Elgarn o no? Allo 500. Esta noce. Este reto. Ragami, dovrei comprare Rocket League? No. No. No, Marwi. Tranquilo che ci sono altri giochi. Vedrai. È solo una onda. Non è velo. Bendi, sì, certo. Puoi aggiungere noi sempre. Il codice è nella descrizione dei video. Quindi aggiungere noi. E noi. E magari avete già visto? Penso sì. Ok, chi è Darth? E chi è l'altro? Il primo? Questa mattina a 8 o'clock. Questo ragazzo non dorme. Non dorme. Non dorme nel mattino. E Panda questa mattina alle 6.40. E allora devi scegliere i giochi belli. No, Rocket League. Si è verificato un errore. Non dorme. Non dorme. Non dorme. Non dorme. Come uno tiene il copyright del Nintendo? Chi è? Gustavo Ramirez. Con molto amore, Gustavo. Non dorme. 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 Capisco. Fanta. Però. Non so. Questo è un discorso che lui ti affronterà più nel futuro. Vedrai. E cosa? Per il Minecraft. Il Minecraft. Siamo indietro di troppi anni per giocare a Minecraft io e io. Perché me la vedo io. Tu è Carson 3000. Adesso non mi ricordo. Bendi. La cosa è che, da tempo per tempo, dobbiamo evitare le persone. Perché non abbiamo più spazio per giocare con le persone che ci sono nel stream. Quindi è possibile che, se non hai stato in linea molto. Era oggi, che? Il concerto dell'ESO. Ah, oggi è anche il... Ah, oggi è il torneo. Oggi è? È ogni giorno. Noi, oi. Non è la mañana. B-b-b-b-b. Demi. 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 Ma-a-m. Demi. senza te! Cocco cosa stai facendo amore? Cosa c'è? Hello BG Oh gosh, è difficile dire queste parole Caleb! Ma Caleb è qui! Tv Tv Zeb, magari dopo magari dopo perchè oggi è il friday loco Crazy friday Crazy friday No, no, Jorge non abbiamo visto la nuova arma No, non ho ancora Tengo che giocare un po' in amistosa Il torneo come si dice? europeo De Splatoon 2 Es in Suiza, Carl You're excited for Easter Aleluya Aleluya What? Allora, allora, allora Allora Un pochettino Eh? Si, claro, estamos Mira, no sé si te has fijado un poco estos días que estamos haciendo mil cosas a la vez, en verdad Porque aprovechando que tengo más tiempo libre Claro, todo lo que habíamos pospuesto lo estamos llevando a cabo entre el server discord la planificación de de los streams, etc. 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 Tranquera Así que Si, a ver Lo que hacer y hacerlo en Semana Santa ¿Hasta cuándo es? Pero el lunes ya no es Semana Santa, no? Aspetta lunas Yo creo que Tost Va a ser más adelante aún así Pero bueno, los equipos hechos están hechos así que entrenar entre vosotros siempre podéis Algunos si ya están hechos otros no Nella vecchia fattoria Nella vecchia fattoria I-I-I-I-I-O Esta música es... El code No, no, el código es 9-9-9-9 Ok Grande tost Si, avísanos Bufugalev de cómo van Tanto van a ganar los italianos, verás Es una ley Hacemos apuestas Es una ley Me juego el canal No Yo me apuesto en mi canal Ah, falta de haber enviado una amicizia del... del account de la suya sorella No, 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 no ¿Por qué vas a jugar a tua sorella o vas a jugar con dos accounts? Espíégalo Espíégaci Espíégalo Eschere Porque si es la segunda opción verá cancelado presto, me sé Entonces, no sé cuánto ne vale la pena Fanta a seis fratelli maschi Si, Bendy Bendy Hacemos un lobby en un match Hacemos un match más Hacemos un match más Hacemos restrito el lobby Entonces, la papa No importa Pero tranquila una cuenta Que será todo será Tiempo al tiempo Moin moin Snipe Yo quiero jugar Sí Pero nos Digo Pienso lo mismo Lo que decía hace un par de días antes Pensamos en cambiar la manera de hacer the private matches just checking out how to do it Emanuela, stas usando il... eh perchè sono 26 persone Zeb no, we don't really have problems with the switch only with a controller we are having some trouble with visual but the rest with a pro controller Marviyu has been out of the box Ah ok, fantastic, ok, this si va bene Per liberarla un po', per farla diventare Iguodi Marviyu has been out of the box Se ti pare il directo Eh ma no, io credo che il problema è perchè eravamo tanti sai Perchè eravamo molti, per questo? 24 persone diciamo dai Puede essere, a ieri è un po' più problema Siamo a 24 persone sì, credo che è un pochito di problema Puede essere perchè hai un monton di persone che stanno streameando Quindi se... Eh, chiaro, e se ve, si ha chiesto di entrare nel room degli altri, chiaro Oddio Rispondigli Ok Che hai fatto? Che hai eliminato il messaggio? No, non lo so cosa è successo Ok Sorry guys Sorry, that was a mistake Yeah The problem was My hand in the... Oddio ma l'hai fatto di tutto Ma cosa? L'hai occultato, l'hai fatto di tutto povero Eh ma non l'ho fatto apposta Ok Io non sono un youtuber, io a volte sbaglio Vestiamoci bene, va che oggi è giornata Team, 4D ganò a Spanish Army Il 4D qual era? Tu potresti leggere i nomi? Oh 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 calmi calmi Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Endlich qualcuno che la Rocket League spiella Spiella Sì, c'è un po' C'è un po' C'è un po' C'è un po' Secondo che faccio questa partita e poi l'accetto Che rinvio la... cioè rifaccio la lobby Deliby lobby You and me Doc, faccio giocare a mia sorella Che ne dici? Appena risposto Ah Dimentico, sono indietro? Mado solo di due Ora solo queda Archicosmos di Spagna Spero che si classifichino Poi spera, spera Va va, oggi sono io la mala Ai 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 Oh 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 cal, cal Tranquilo Usch Emilo Allora Come facciamo? E vai Ciao il singhiozzo Ipo Oh, in inglese me lo pietas decir I don't know the name Do you know the name? Do you know the name? Ah ma ti unisce la partita dopo o continuiamo facendo così? Cosa vuol dire? Che si... ti unisce la sua partita perché... Ma la sua partita è di chi? Non lo so chi sia Bendy Ma ti sembra che mi unisco le partite? Ma no Ok Sì, vieni a mangiare anche a casa mia caro Se vuoi c'è il letto pronto Sì ti pago anche la bolletta del telefono Sono qui per questo Quindi... Bendy, continui a cercare di entrare in nostro ruolo Sì Perché abbiamo iniziato il lobby Tu dovresti essere capito Quando abbiamo finito questo gioco Oh! Hola, hola Hola Nacho Gaming Che va, che va Estamos qui in España Solo che se ha parlato in italiano anche Entre altri idiomas Bienvenido di volta De todas maneras Eh, Luisa, hai già, no? Sì Dice che... Que hacía tempo che non... Che stava sin vernos E che pensava che il canale stava in Italia Nooo Somos català Come dicono qua? Tranquillo dog E me iscritto nel anno Propio ora Dice Marwee Woo Ora! Il juego sta in italiano Sì, il juego sì Claro Le hai pagato con euro italiano Sì, quindi Sì Sì Sì, però bueno Credo che non impide molto Non se come dicerlo Perché al essere Splatoon Tampoco tiene mucha storia Se fosse Zelda Te diria, bueno, vale Venga O algo así No, Ale Creo, creo Que è una persona distinta E vuole leer Los numeros En español Eh Perdona, eh Oggi è il giorno Oggi è il giorno delle schiste mali ragazzi Allora Puoi vedere a través del Discord se vuoi In che sentido? Tipo un dibujo Dices? Allora Doc, perché non mi retransmite Mañana il directo del torneo? È È È È È È Era 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 lo che stavamo pensando E Bueno Però non lo sé Tengo che per manana Mi dia come Come va Please, Bendy Try to join our match We'll Write the The code Here And you'll have to be really quick Ok Allora, se deve essere really quick Le mettiamo un codice impossibile Così non entra manco a poco Cazzo 1940 Hello, Looney 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 Welcome to the stream I Soll ich eher sagen Willkommen zu unserem stream Dili Io si chiamiamo Japones Japocinese Japocinese Ok Chi è che si è unito adesso? Il Discord? Bus Bus habla espanol, no? Bus amide, si Espanol Le vamos a dar El permiso de frienzas E Espanol Ja Looney Ich bin in deinen Kanal gegangen Da steht Da steht Willkommen auf meinem Kanal Da habe ich gedacht Ok Ist vielleicht Deutsch War ja nicht so schwer Willkommen auf unserem Kanal Wir sind eine Community Wir spielen sehr oft die Plature Aber auch andere Spiele hier Sprechen Deutsch Aber auch unter anderem Spanisch Englisch Und Italienisch Also wenn du hierher kommst Und Deutsch sprechen möchtest Oder Englisch Sag es einfach Sag es einfach What? Doke Nachte 1940 Si Era il 17 marzo 1940 Nooo 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 Poké Sai Hello, welcome Che Poké Sai Welcome Poké Sai Ma Poké Sai If you're looking for people to play Why don't you join our discord server And also follow our channel so you can find a lot of people there classified in different games Yes Yeah Yo quiero el Splatfest Japón tuve 2 este mes 2 Davide E nosotros que tenemos Existe ancora Ciao Davide E Davide Si, si, si Nein Friend Sch Grazie Si Si Sch perché Bendy stava dicendo il codice di Suru, non la nostra. Tu devi guardare quando scrive lui o Iguodijes, che sono io. O qualcuno che già avete visto in questo live stream. No, qualcuno che ha avuto in questo live stream. E non sape come... Se funziona. Però non passa nulla, ragazzi. Dock a 78 anni cosa, vedo che la voce è giovane. E' mad. Hello my friend, hello my friend. Padapapino. Madness. Welcome. Welcome, welcome, welcome. Sorry that we just missed each other yesterday, I read the message. Oh, you know each other? Pokesai and Enmat? Pokesai and Enmat know each other. Sì, vedo che lo conosce. Yeah. Well, we'll still be streaming a while. Ancora facciamo stream per un po'. Sì, sì, sì. We don't know the end. Today it's a little bit free. Yeah, free time. Gracias por la informacion. De Caleb. Archimedes ha ganato 2-0. Oh, no, no. I'm reading the message, Goose. Madness. They will be live for three hours. Plane are live. Okay. Okay. No, maestro, che sia chi, tost? Minchia, tost, basta, tost. Go away. So, para los Kenton Roast. Gracias, Carl. Gracias. Yeah, that's true. Carl is just saying that we're trying to hit 500 today. Let's see. There's not so many missing. It should be possible. You saw three hours in the description, really? Are we saying that? Let me check. No, but it's night. Tonight, yeah. Yeah, tonight. We just are making like a random stream, which was not planned. You know, the schedule is planned to work from 1st April on. Just checking out if the times could fit or not. We still have to organize it well. Yeah, yeah. We don't know if it works like this. Bah, come è scappato! Dove è la torre? Dove è la torre? Non ci credo, non ci credo. Non ci credo. Buuuh, programmer. No, Goose. You said... Who is better at Splatoon? You said that yesterday? Oh, gosh. I'm confused. I'm abused. I'm confused. Creo che Team Mago acaba di perdere. Oh, sì? Nooo. È il Mago. A perdere il Mago? Allora, la torre è lì. Prendiamo un pochettino... What? Wait, it's 9.30 for you in the morning? Waffanculo. German Missy. What? Hola. Hola, welcome to... Bienvenido. A todo. Welcome a todo. Welcome a todo. O bienvenido to everyone. Ciao a Ale. Welcome a tutti. Minchia, questo è difficile, eh? Questo non è un po' di... E mischiarli tutti organizzatamente. Nightmare Freddy, welcome. Also to you. Yeah, we're trying... Already 95, really? Oh, German. Is this true? I'm not German, eh? Hello, hello, hello. Hello, hello. What the question is toaster? Toaster, I hate you. No, no, I don't think it's German. Because I'm here and I speak Spanish. It's all written in Spanish. Oh, my God, we're missing a person. How does we need a person? We're missing a person. Thank you so much, guys. Guys, guys, we need one people more and we write in Splatoon 500. Come cazzo si dici 500? 500. Have you mastered the art of brush? Let's say that he fell in love with the brush a few weeks ago and... Weeks? Months? One month. Yeah, okay. Let's say two months. And since then it's really hard to use other weapons. I am Balloon Boy. Yeah, we're missing a 500. Oh, that's cool. That's true. Let me check if it's true. Oh, we're already 500 and one. Thank you. Balloon Boy, congratulations. No, I want to save Balloon Boy. Balloon Boy, yeah. People, join our Discord. We want to keep in touch with all of you. That's so cool. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Dark Angel. Dark Angel. Bienvenido. Wow. And the subscriber number 500 has been Balloon Boy. 16.35. All the time. No, 16.03. Which I think comes from... Who wanted to do the room all the way. 2018? How is the guy's name? Balloon Boy. Eh? Balloon Boy. Balloon... Docchino, quando facciamo io a Matteo il Mates Mathematically, ci parliamo per Discord, sicuro per organizzarci. Wow, thank you so much, guys. Dovete solo dire chi lo volete fare. Allora. Devo rifare la room? No. Scusa, pensavo che Elman diceva che non era sospetto. Thank you. Eh, io. Hola Dark Alex, y gracias Foxy. Bienvenidos a todos. Wow. Bauer, thank you also to you. Grazie, grazie, grazie. Thank you. Lo que sta pasando? De repente hai una ola. Creo que Foxy ha hecho algo. Ha hecho algo. Grazie, Carl. No, sacáis cada dia una sonrisa. Pues andate a vosotros, a nosotros. Veramente ce l'abbiamo fatta? Si. Abbiamo fatto il 500. Si, non mi dico questo. Jaime. Creo che algo, creo che algo vamos a hacer, però è un formato de format. De format che es? Un formato. No, si, haremos un contenuto. Un formato, un contenuto. Un contenuto. Un contenuto. Esto si. Can you add me? You can poke a side the code, you can... Have you read... Oh, no, no, no. Ok. Keep calm. Have you already sent the friend request? Have we to accept you or... If this is not the case, it's in the description. You have to accept? I have to accept one, but I can accept one of the match. Ok, maybe we have to accept you after the match. No, for sure, for sure. But, spiegale perché. Perché facciamo due partite, so per non far cadere la lobby. Because we don't want the lobby to crash. We want to finish this match and maybe the other one? No, no, no. No? The last one. Ok, the last one we accept. Si, Milo, dopo rifachiamo. New room after this, nuova room dopo questa. Ahora hacemos una room nueva. Johanna! No me lo creo, Johanna! Que tal? No, Alex. Muchas gracias. Caleb tiene... Tiene ganas de... De participar a este torneo. Espera, chi ha scritto... Chi ha puesto vengo da parte? Uno u otro? Eh, si, Alex. Alex Down, si. Ya le he dicho que gracias que... A él y a otra persona, Bowen... No, no se, no me acuerdo el nombre ahora. Boom, boom, Manuela. Boom, 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 boom. El año que viene, Caleb, yo quiero tener la comunidad más larga... De la que puede pensar, porque en serio, ahora mismo vamos a romper Andy. Ah, la madonna! Andy, nuevo sub. Ma, ¿qué está haciendo el Foxy? Esperare, eh? il Foxy lo sta aiutando un monton madre mia a ver di che benvenido Andy, anche da mia parte e vamos a aceptar po' che sai po' che sai madre mia, vende da parte di Foxy uno, un altro otro? madre mia el Foxy lo sta facendo muchas gracias espero que os este gustando la recomendación de Foxy ostra y nada y tenemos que cerrar el link del canal de Foxy ahora si no después de todo esto mi siento pro por haber ucciso Black capita, capita anche yo mi siento cosi ma siempre muoio wow so mhm I'm so happy and you know it vale, madre mia pero cuántos canales tienes mi que si has hecho la verdad bastante milagro ah si, si, si ya lo tenia ya lo tenia si, si, ya lo tenia este canal ya lo tenia solo con otro foto antes decode one two three one co pp 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 pip p. p��고 po pp pot pp 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 canali, il foxier o il cuervo o il kendo questo 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 perché non lo pone? perché non ti subi come 5, lo se, lo se lo se, in serio te lo voy a agradecer un montón, perché sono la cosa oye no, due volte Johanna non puoi scuovare oye va a provarlo a ver ciao Milo aspettiamo che torni in un altro stream stasera oh Milo, un abbraccio buon pomeriggio no, no, no ma la ruota, gli effetti epilettici eccetera, che fine hanno fatto? dobbiamo dobbiamo cioè, devo devo finire di settare perché ogni volta che uso il Mates Mathematically si mi va a cambiare tutte le impostazioni di video del oh mio mio, vale allora, ora si è il link di subs un po' favore e sempre invita persone nella comunità è un chico che lo conosciamo hace quasi 3 mesi al final è un chico molto divertito se volete suscribirse a suo canale il link quando ti resta la sala è la prima o la seconda? la prima la prima non è un match un match più dopo questo e poi lo restiamo perché sai allora vediamo chi è entrato Team Marco acaba di ganare 2 a 0 che guai che è Simon? che di chi è Simon? 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 siete qui? in Discord qualcuno che è solo in Discord solo per capire chi era dici che abbiamo bisogno solo di saperlo per poterli mettere i permessi di lingua solo bisogna sapere in order to give you the language permission because we have different chats I was saying a video for my channel though but ok dice Madness che ti ha un video per il suo canale per la mia in che senso? un video per il suo canale non so e come faccio a fare un video io? non so dimmi che ne parliamo subito per la mia show eee Madness right after the stream finishes we'll talk about this ok ok you are Simon ok so we give you the permission for English English focus es amigo de Madness vale ok ah ascolta ascolta li diamo li diamo i permessi ok e poi li diamo anche l'invito per l'ufficio di Madness ok that's true because I will give you the permission for the English language chat and we'll also give you the permission for the office of Enmat Enmat's office adios Gustavo Ramirez oh Gustavo nos vemos gracias por haberte pasado y por haberte unido a Discord lo hemos mirado ya Foxy yo he visto un dibujo tuyo también ah dile que no dibujas mal dile que se puede ser que usa Discord Foxy Foxy tu usas Discord no puede ser no tendria que empezar a usar y si no tendria que empezarlo a usar es verdad if it happens I'll link your channel no mi padre no puedo hablar no no Johanna ya sabe cielo se nos bloquea y se nos bloquea demasiado el stream si empezamos a hablar por el chat Foxy el Discord son servers para chatear entre jugadores tiene conversaciones tanto por escrito y luego y luego también tiene de voz pero no necesariamente se tiene que hacer grupos temáticos también si te quieres unir al nuestro tienes el link debajo del video en la descripción hola Jesús hola hola te conocemos Jesús me suena mucho pero tampoco te lo podría yo no no pues bienvenido a nuestro canal Jesús boom abbiamo fissato il 500esimo subs e andiamo ok mad see you later voilà puoi chiamarmi il fantino uitz sulla torre e va cosa no nunca piso que pobre joano wow ¿quieres que te dibuje LiveGamer? ¿qué me dice? Foxy claro claro Francie Francie ti debes estar tan lento Francie Francie ciao guarda que son los últimos 2 i secchiere si i secchiere dibuja mi el mimi lo tiene ah no el no lo tiene como se puede hacer ¿qué son los últimos 2? Francie gracias es apenas suceder un momento carla 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 come carla i marf marviu si wow yurva celeste chi es no cosa ti stai guardando ah allora non lo sabemos Francesco un po' stiamo in live ancora non lo so cosa dice wait wait japanes friend di un fotofoto perfilo chi era si blocca si blocca si blocca si blocca si blocca si blocca non posso muovere la chat no non abbiamo nessun moderatore qua adesso eh 508 508 si stai 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 lo sniper si quando superavi quello devi aver paura che sei contro Saretta ti ha avvisato chi è? sei contro Saretta ma io non la conosco non la conosco nella vecchia fattoria no Black chi è andato via? Marvillu vale vale Bob Carl fantaperderai oh Lockhead Sige il nostro Sige dico di Sige will ma Saretta si scrive così guarda un po' si si scrive così ok allora ho già incontrato una volta madre mia oh no il po' il po' il po' il po' il po' no lo so che sto stando certo sti dicendo, ma anche se non pinta la mia squadra ora sono Sark vale, Bob Esponja è Internet Bob Esponja è Sark Sì, Sar, non so cosa è passato Abbiamo detto così come A ver, che ci aiuta a arrivare a 9 minuti Quando ancora ci siamo andati E di repente abbiamo subito 20 iscrittori Casi così, di golpe È stato un po' una locura, di momento Bisogna controllare il server Discord sempre Adesso, un secondo Perché se qualcuno si sta unendo Bisogna dare i miei permessi Allora, Juno, super assistibile a Pesach Ma se a letta si scrive, ah no, quella si scrive Fanta Allora, io devo, posso guardare qua, no? No, lì, io ho lavo Due si sono uniti fino adesso Chi? Due si sono uniti Queste le hai fatte, no? Qua di guardare Ok Mi è mangiato tutto Già, prendilo per vizio, per favore Perché se no sfibra New room, new room, new lobby Aremo alla nuova Friend request Yeah Aie, no Ok 7, 4, 1, 2 7, 4, 1, 2 Che tal, Lali? Tutto bene? Sì, domani esce il vecchio stage Boom Boom Chissà qual è Non l'ho visto Boom Baby Che ne è fatto? Bam Mira, mira, mira Non va Vale, vale Ok Boom Boom Torre immobile Otra è Yay Anzi Ora espereranno Los dos Centrali Grazie Programmer Cuma Cuma Anda Cuma Juno Non so se non si chi lo sape, ma tomate schreit in spagnolo come in nemmeno Tutti di You see me Happy face Nanananana Fuck face You are my You are my No Ancora mi impegna per ucciderti Chi è? Ancora sta fanda E sarietta che non so chi è Che dire Non sento nessun rumore No No Da e no poche sai you have to come with me and you're still smiling come on guys dai prova a far da youtuber a oggi dai dai I'm eating cookies fai da youtuber dai ragazzi condividete con i vostri amici i vostri parenti i vostri cani il nostro link no? dai dai ok I'm being forced to do that this is a Jess youtubera it's me playing the youtuber youtubera? oh gosh so guys please if you want to support our channel and our community share it with your friends your family your dog your grandma your dog your goldfish and yeah thank you so much ma share what? share what? share the happiness of our stream no 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 mi è ingordato un montone stavo io non mi potevo muovere I gained weight I couldn't move e certo i biscotti sono troppo buoni per me poi si mangia i biscotti quelli lì come si chiamano con digestivi sai quelle merdate lì con digestivi si chiama con i cereali wow pochi sai lo che mi sa che oggi oggi Mario Kart no era ieri no? ieri abbiamo giocato Mario Kart non so se oggi facciamo Mario Kart no non possiamo fare Mario Kart oggi no era ieri Mario Kart abbiamo fatto ieri 6 ai si 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 uuuu pochi sai you win poco cuidado ahah emih sembra aver jugato con un poker fight dove cazzo oh oh diodio oh pochi sai you win again que uu io le ho dato non è perché stai mangiando in 30 secondi dale dale basta Coco se me fu la conexione jolines basta hai mangiato il biscotto dai basta Coco ma se ti dono 30 euro compri Minecraft non sono sicura sai ma è un gioco che ti necessita troppo tempo io adesso ho tempo libero sarebbe un noob eternamente già partendo no quanti anni di distacco abbiamo cioè io non ho mai giocato a Minecraft mi tornerei a giocare a Minecraft adesso sarà un cioè non agguanto nessuno tutti sono più forti di me ah te lo sei compiato proprio ora è il Mario Kart chi? Locket per quello chiedeva tranquilli Locket sempre vi potete organizzare assai per Discord tra di voi per giocare insieme così lo provi con loro no non riesco a giocare su PC cioè ti spiego la mia concezione io sono nato con le console e giocare a PC per me non è giocare non so come dire anche se giocare si gioca meglio la miglior grafica tutto quello che vuoi ma a me interessa la console quanti anni è che giocate a Minecraft ragazzi per curiosità io non dubbio è che sia un gioco bello è bello qualsiasi gioco che a vedere a costruirte una cosa che ti pensi tu te stessa no e ti fa sentire bene in maniera o altra non so come dire wow po' che sai wow po' che sai è bello dire sto nome vero? tre anni eh vedi lui due due tre fai la differenza non la fai io come cazzo faccio a giocare con gente che è già tre anni che si sta costruendo cose è come se io dicessi a una persona così andiamo a giocare a Call of Duty uguale non trovarebbe neanche piacere giocando perché morirebbe in costanza e su Minecraft si è un'altra cosa no forse da 4 dice Fanta no ma mia in più ma figurati ciao Carl è un ritmo tropical ciao ciao allora Johanna e Carl buono Carl se va ma su Minecraft non si costruisce Fanta no cazzalina come non si costruisce cosa si fa e raga che si ha cioè cosa si fa che cazzalina Si fanno pixel art Si si lo sabemos Ho trovato Hitler su Mario Kart Cosa? Ho trovato Hitler su Mario Kart You've mastered the art of the brush Cool È bravo è bravo eh Si combatte, si sopravvive, si fanno pixel art Quindi cosa significa? È bravo a giocare il ragazzo lì Si Sai Sai Quanto? 60.000 Cosa? Doc, Minecraft PC ha tipo più di 60.000 modalità create per tutti dalla community Si 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 lo so lo so Che che Hola che 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 che? Eh? Hola Che che? Has visto? Eh? Ya, ya, ya stiamo in road to 600 Che dice che che? Minchia è poco che suddisco di lei eh? Che tal tu brazo? Che poco che suddisco di lei, le piace, non le piace? Si Si Scrivervi a papà Il titolo è a un anestà, si O che è? Mi ricordo che giocavamo Splatoon su Minecraft. Cosa? come funzionerebbe sparano anche colore parapapira parapapapara parapapira parapapira si adesso cambiano oh no poche sai that was well ah si poche sai you are playing versus my wife right now so please tranquillo tranquillizzati she is not my finger oh you are playing versus my finger si usano i tappeti colorati per simulare l'inchiostro scherzi voglio minecraft donatemi sti cazzo di 30 euro voglio minecraft riprendilo perché faccio troppo caccare si ma quando le console prenderanno i server con la pad rock edition allora non ci sarà differenza tra minecraft per console e minecraft per pc o me dio questa troppo compresa per me tu lo avrai capito si 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 hello no 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 sti cazzo di sti cazzo di programer ostras con Kuma e Programmer ah Kuma lo ha detto, ha detto me ho fatto fuori si ya perché sai allora siamo simili lo faccio io se si potesse ma si può ma no non hai capito cosa ma non si può è uno scherzo non giocherebbe mai in Minecraft no giocherei ma non adesso non è proprio il momento si è bloccato ragazzi il mio switch è bloccato si è bloccato bloccato significa mio dio ma chi è la persona che si mette quel nome niente è bloccata dog lo so che tra poco ci sarà un big update che unirà Minecraft per console con Minecraft per PC ma io ti consiglio la PC per il per il che spio è perché è bloccato ma dai cioè dice si sono nuba tranquillo non ho mai detto che sono contrario Sì Dile che sei un umorista Sai You are a umorista Comedian Simple call Free 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 This is a simple call Oddio Light Gamer Family Can you speak Japanese? Yes But not in this life In the next life Maybe Maybe yes And you? You can speak Italian? Il codice è semplice Quello si trova nelle patatine Shake it Minchia mischia un luschio Mi ha dato verde lo schermo della switch Un nanosecondo Caro, claro, fanta Ma io non so parlare giapponese Frank Le patatine Le patatine Sono giapponese Ti stanno chiedendo di andare Che si ti va di venire al Comic Con di Napoli Anzi ho quattro fans a Napoli Mi vado sicuro? No? No? Certo All right Manuela e Octogirl Octogirl Please, 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 please Octogirl Ne, 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 ne Presa Patatine Le patatine Buon patatine C'è la patatine C'è la patatina Bribbba papà Cantiere pinne nere O le palle nere Doc, fai il bravo youtubero E fallo per noi Quindi? Vai programmer Vai, vai, vai Vale Manu Guardi a spolavisare Tranquillo Oh, programmer Wow Kentachman Salutalo No, Kent Salutalo sempre Quando lo vedi Se non si incazza Quello Si, si Meglio non farlo incazzare Mi sa Oh, mio dio Hai visto? C'è un graffiti Alla parete dal lato Oh, oh Eccolo lì Dintolo dall'altro lato È bellissimo Oh Saretta Saretta Vale, vamos a pintar Un po' di secondos más Eh, non esagerare 8girl Per favore, dai Fai la serie Se no mi potrei incazzare Qu'è? Despois di 1000 anni Regresa Qu'è? Gamalier Alex Gama? Per quanto tempo? Madre mia Gama Grazie della morte Ui, ora chicos Buon dia Grande Pokesai Bienvenido Di grazie a Sprogamer Ah, sei un montón Che non lo veo Gamalier Un montón Creo che Sì, primero pensavo Che era Gustavo Sabe se le antes Pogete la mismo color De la letra E la misma letra Antonsa, spera Quanto tempo Se tengo a cateccar Dai Ok Ah, che No In aria Minchia, guarda il perrito Era arrivato giusto giusto Hai visto? Così si usano i cani Devi solo capire Dove c'è il muro Oh, qui ancora Tutto a pintare Oh Eh, questo capita Per quello È meglio iniziare bene Secondo me Eh, ma sai qual è il problema? Siamo stati Siamo tutti attaccanti Siamo partiti Ed eravamo tutti attaccanti Almeno una persona, no? Ci dovrebbe essere Tutti, tutti Erano attaccanti Wow Quanto segna? Creo che era Cinco, 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 cinco Tu quella nuova O è todavía con eso? Io creo che Tres, 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 tres Ah, sì? Sì, però Sì Non era quello Del patatino, no? Wow Buongiorno Spillparty Perché è la prima? Ah, vale Welcome Bienvenido No, non ricordiamo Si è 3, 3, 3 O 5, 5, 5 Ah, vale Programmer e Octo Afuera Sì, sì, vedi Sareta No, non ricordiamo Sì, vedi Mi ragazza Sì, il resto Poggi Quindi possiamo parlare in inglese meglio Handicap! Brasci! 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 Brasci, Brasci! Che cosa vuoi dire? Cosa scritta in cucchioli e franghi Ah ok 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 Squid party No, non Squid party Squid party, party, party Oh, per noi è un match di handicap! Trazione! Dive tutto! Oh Blasci Cosa è il passcode? Il passcode è Il prossimo match sarà Restare il lobby Restare il Basta Noia, Locket Nel senso Tre volte va bene Quattro Già disturba Sì Perché quella parola lì, anche se non sembra Quel cognome lì, anche se non sembra, è molto Voglio dire, è proibito in Germania che emersi con quel cognome, quindi sarà per qualcosa Na 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 na! Blasci? Cosa vuol dire Blasci? Non è quando ti... Abbiamo già perso Ma perso? Così Ma com'è possibile? Edita Il prossimo match ever Cosa vuol dire Il prossimo match Il prossimo match Il prossimo match Il prossimo match Ok Juno Grazie per essere qui Ok Hacciamo nuova ora Sì, claro Dos, nuova Dos, nuova Dos, nuova Sì, sì Dos, nuova Dos, nuova Dos, nuova Siete, uno, seis, cero Questo è il codice Questo è il codice Siete, uno, sei, cero Noo, Fanta Tu sai quando sono i selfie Quando si fanno Vero? Nananananananananana Se ti becco con la motosega ti apro Perché mi sei simpatico tanto Aversi il vero da Loli Come no? Avevamo detto tempo fa Che il selfie time Lo farebbero quando Farebbero se non è nessuna lingua Farebbero Farebbero Lo facciamo solo quando Siamo tutti ingoli Lo facciamo solo quando In una partita amichevole No? Entriamo tutti Tutti quanti Nello stream Perché così è una cosa speciale E non diventa niente banale Vangol goooool Vangol goooool Oh, sarete Ah no, se li piaceva È vero Hai visto? Mi ha detto una promessa Senti Adesso l'ho messo triste Senti Adesso l'ho messo triste Non sono buona Portatola da Malle notizie Portatrice È meglio che oggi Io smetto di parlare italiano In mezzo ai denti lo senti Senti Ma c'è il dito medio? No Ma dai Sì, lì, no? Ma discord è così Eccolo qui Bam Dito medio Biscotti Biscotti Con la vacca Ma dai È il meglio invento del mondo Chi lo nega Non ha Non ha Non ha cervello Non ha cervello Ma i denti Senti Dai dai Fai una regia Andiamo a vedere 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 Mischiando un poco Nella mischia mollusca Sì, perché Alessere quando lo vuole Potesse essere curioso Io tifo per programma Almeca 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 No, no, ok Tranquillo Non mi puoi offendere Perché non ho nessuna Come si dice Preferenza politica Perché non mi interessa Però Come Anche si dici Non so No, aspetta 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 No No Biscotti è un cazzo No, è vero Quella parola lì Ripeto Quel cognome lì Come tante cose correlate a quella cosa Sono vietate Ma Se i giovani d'oggi Non sanno Che c'è Una legge Che proibisce Dinneggiare O Parlare di queste cose Smetterebbero di parlarne Perché c'è una legge Anche in Italia È vero Ma esistono tutte queste cose in tutto il mondo Per esempio in Francia Tu non puoi chiamare a un maiale Napoleonte E quindi quando capiamo Analizziamo queste regole Capiamo anche la storia Un po' No ma in Italia c'è una legge ancora vigente di questa cosa Che non si può Non si può parlare Perciò Perché magari vai in carcere dai Si fai certe cose correlate a quello Biscotti me ne frega un cazzo che dice biscotti Poi alla meglio pensano che è stupido Fanta Che scrive biscotti solo in tutto il tempo del giallo No, è vero, è vero, è vero È vero, è vero È vero Solo per quello Per la gente a politica come noi Perché la politica è fatta per la gente che non Che ha bisogno di essere comandata da qualcosa Io sono a politico perché non credo nella politica italiana Soprattutto Quindi io mi posso sbilanciare e dire La politica fa schifo Personalmente ma non sto dicendo niente di Poco legale Via Mettiamolo così sulla legalità Come non si parla di tanti argomenti illegali in questa chat Solo per quello Jess proprio poverina Solo quando le dico che è una salsiccia Si offre Oddio ho messo la moda dei biscotti mi sa Non devo dire quella parola Mele, mele, mele sono buone Lo sapevate Madre mia Allora qui sta succedendo un mordellone Con po' che sai che sta continuando a buttare Po' che sai che tira Punti su punti Anche Vumi Punti su punti Calvi Quella po' che sai Wow Che tecnica po' che sai Cosa fa? Non l'hai vista da preferire E andate a riprenderlo veloce Sapendo che c'era Vumi che stava avanzando di lì E' andata a prendere veloce le vongole che c'erano qua Si Si E' subito te li trasportare all'altra parte Guarda quanto gli manca. Diciassette vongole E' qui mancano cento dai Ma non sto neanche mettendo perché non vogliono no? No, ma posso esprimere una cosa che per l'italiano non è bello, cioè non partecipare al voto. Boh, io ho votato finché ero in Italia e poi adesso diciamo che non mi interessa la politica perché... Ma anche qui in Spagna non ci interessa? Proprio ha uno zero interesse. Da cittadino a modello, un cittadino a modello non può dire che non gliene frega un cazzo della politica e che stanno mangiando quello che aspetta a tua madre, a mia madre, a mia nonna, a tua nonna, se lo stanno mangiando loro. Doc, ma perché mentre si gioca all'improvviso, si parla di altre cose perché io ho dovuto dire quello che ho dovuto dire su una cosa che stava succedendo in chat e basta. Solo che magari si è espanso troppo. No, non si è espanso. Qua non si parla solo di giochi perché se no questi ragazzi... Cioè parliamo anche di diverse cose, no? E questa è una di quelle cose. Che sappiano che dire determinate cose in Italia è illegale. Cioè se ti beccano ti fanno un culo così. Come portare una bandiera con il viso di un politico italiano degli anni 40 ti danno 4 anni, semmai, di problemi. Grande! Astronomia! Grande, Frank! Meglio. Ah no. Sì, si lamentano, è vero, è vero. 17 punti, non riescono a fare gli ultimi 17 punti, è comunque... Eccolo, 10. Hanno aperto, hanno aperto, vediamo, vediamo. Vediamo che arriva. Kuma, Kuma, recupera, recupera, Kuma, vai, vai che è aperta. Due secondi, un secondo. Chiusa, chiusa, chiusa. Minchia, cappottone, 17 a zero. Per a papira. Mamma mia. Non ho nessuna chance. No. Chance. 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 E' ragione, a prima ora solo vale. Delle cose. Bene, Saletta, Fanta e Alex fuori. E' un po' tropicale. Pokeslide, c'era un gioco davvero buono, ci stavano osservando. E' un po' di te. 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 Chi è che c'era? Fanta? Ah sì? E' Alex. Che bello. Cosa? 30 like. E' un dislike. Bellissimo. 30 like? E' un dislike. E' il nostro dislike quotidiano. Daccelo anche oggi. Flame. Matteo, 007, non puoi stare in live? Guarda, puoi tranquillamente, 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 tentare di giocare con noi e chiedere a qualcuno che è qui il codice su Discord. Così almeno ogni due partite che c'è un cambio codice tu puoi continuare a giocare. Visto che abbiamo trovato la soluzione. Ma che devi stare per forza in live? Con l'aiuto di qualcuno da Discord puoi tentare di entrare ugualmente. Io neanche posso stare tutto il giorno in live oggi. C'è un po' la finestra che sembra un'armia, questo qua? No, no. Sì, sì. Bellissimo. Mi sta torturando. Cosa? Ciao. Ah, sì. Ah, si è riuscita. Che belle le partite senza il mago che spacca. Non finisco la frase. No, ma Mako manca, dai. Dovete essere sincero. Mako manca come l'ebola. Meno male che non ti sente. Bu, 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 bu. Madness. Hai ragione. Sì, è riuscita. Ma come è il tuo... Sì, è riuscita. Come è il tuo armamento oggi, Madness? È migliorare? È migliorare? È migliorare? Sì, è riuscita. Sì, è riuscita. Sì, è riuscita. Che mata il 118. 118. Ma, eh, entonces è... De, 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 de... Che cosi espanoli? Che n'hai per qui? Che direi che cosi espanoli... Può, 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 può. Un teore, ma alcun amico espanol? Io che siamo... Mira, Alexis, creo che sta, se non mi equivoco, gamma, no? Esta gamma, Loli, stava, in teoria, attendendo la switch, però può tardarsi solo di ore. Claro, perché il fuso orario è differente. Sì. e... BOOM! Ci hanno assustato tutti. Te dico solo questo. Perfetto! E credo che questa partita sarà perdita. Io dovrei andare più certo. No! Come è successo? Non è possibile! Sì, dama! Hai lageo? Sì, ci ricordiamo di che ero chileno. Oh no, non avevo contato con quella bomba. Mi braccia è migliore, ma ho scopo di aggiungere il piede. È la forma di bruciare. È la forma di bruciare. Ma ho scopo di bruciare. Ma ho scopo di un accidente? Cosa è successo? Si stai distrutto. Ma non hai bisogno di giocare per giocare in Splatoon. Quindi non preoccupi. No, è finito i biscotti. Finiti. Non esistono più. Questa partita va a essere super ultra perdita. E questo sniper da qui arriva. Non posso, non posso. Sara! Sara! Quando si concentra, la da tutta. In italiano dire la da tutta non è bella. No? No. E come si dice? Ce la mette tutta. Ce la mette tutta. Suona peggio, però ok. Mira, no? No preguntabas quina via di spagnolo? Asi che Carla ha vuelto. Un par o un as ma, sicuro che facciamo. come se è vero. No, Madness! Si è vero! Mi ha detto il brazzo è un brazzo. Mi brazzo è un brazzo è un brazzo. Ma ho ricordato di me. Mi ha detto che ha messo tutto all'amore a Toni. E io, ma che hai fatto per fare tanto dauncio. Ha sentito daù? No, la rueda ha parato in front. Come si ha lasciato funzionare. E si ha lasciato... Come si è messo il ponte. Ma o meno. Si e ha lasciato funzionare. Sabe, è vero che la mette tutta anche a lui? Così, è vero che è successo qua a lui? on a bridge Akuma? Akuma è ancora qui Ducky Squad, ciao benvenuti Dicchi Ducky vale Gama adios Alexis vale Gama, ci vediamo pronto pronto però hai una tormenta? yes it's back 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 as it's back boom spiegali un pochettino che è here we cannot choose we try for the fairness of everybody to keep it random usually if it's not like the end of the stream and we're like four people left or something Pokesai maybe in the next round you have to you have to learn to use your mental power in order to get together try really hard and it will work but Pokesai ehm Enmad he's really nab he's a nab it's better you play with Sareta pro gamer do you read pro gamer no nab gamer pro non è stato l'ultimo Frank no nessuno è stato l'ultimo è la stanza nuova è entrato l'ultimo diciamo no ho fatto il primo alla metà cambio lo sai perché non posso fare sempre per gli ultimi due per gli due e poi perché voglio che gioca con me dopo io only have brush power yeah you're already two then I'm close 60 he already subscribed talking ok perché la gente di Torino ti chiama perché è gente seria perché gente di Torino mi chiama ma chi come di Torino no non lo so si vede che ha ricevuto una chiamata da uno di Torino che l'ha fatto lì a Google di Paso no eh Zaki here if you play a a squid party you receive only a liter and liter of ink ah ok quello faceva la squid party no? ah sì? non mi ricordo si sono sincero sai come si chiama Daki squad? Daki quale era il nome in switch? e la siguiente Carla, Carla, tenemos che fare una una dopo questa perché questa è la prima della new lobby sì acta la competitiva tranquillamente tu hai fatto bene così è come dovrebbero tentare fare i altri anche la prima di una nuova auto che fa guzz 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 sì sì abbiamo abbiamo fatto le 500 grazie grazie ha passato in questo stream, sai? nel minuto... te ricordi? 35 ah no mira a la 16 e 35 mmm hace una ora justo del stream una ora entonces a 27 minuti del stream sì al minuto 27 di questo stream ha passato il 500 non posso aim cosa significa aim? eh? ok, sì ho scusato è quello che guarda quando hai guardato per farlo non lo so non lo so non lo sto dicendo bene gli stavano sì guzz per guzz 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 perché non intentate di fare il mate matematicamente? sì è vero perché non intentate di partecipare i due alla modalità che abbiamo fatto la nuova perché seria curioso per vedere se tenendo il mismo nome hai più affinità ok ok perfetto ok ok gustavo poco a poco gustavo 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 non tiene che ficarti molto sullo subs perché viene in solo quindi poco a poco non tiene che si perché mira quanto diretti siamo noi quindi per questo teniamo il portogallo che ha la gesta quindi non ti preoccupi poco a poco io e Matti Fanta e Matti e Matti in disco te lo devono dire tutti sì però sto cercando gente appunta appunta Fanta e Matti e Guzzi Guzzi se vuoi fare se vuoi fare se vuoi fare se vuoi fare la nuova modalità che stiamo facendo Progamer e il japanese ah sono il japanese perfetto ok Madness grazie perché mi hai risultato una grande grande perché qualche volta volevo dire questo e non ho capito in inglese quindi ora lo so grazie grazie in spanish è punteria più cazzo e porta via il codice qual'era il codice? qual'era il codice? no noi lo rinunziamo sì il prossimo chi ha chiesto per Ducky Ducky il prossimo sarà rinunciato sì sì chiedi po 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 e perché non inviasi a Gus il link del mate's mathematic link? ah non lo lo invio aspetta un momentito Gus che ti espliciamo aspetta un momentito non so aspetta un momentito aspetta un momentito what? ah no ho cambiato le lettere poca sai? o cosa significa? non ho capito è qualcosa che non ho capito i'm gonna kill you dog and squid bag you te sta visando eh i can break the other hand that you have he's a joking spare me spare me a yes lo sabes no? nanana 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 olio 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 lo copio lo pego ok eh? lo copio yaaa ese de aquí abajo no? tu tienes que copiar la pequeña gracia ah por eso no tu bien no funciono vámonos tengo que escribir perdona eh mamma mira Gus ya esta aquí te enviamos el link para que sepas lo que es el mates miratelo y si te ocurra probarlo si otro Gus dice que si eh dirian que in inglese come che non lleva nada a mi si que me lleva claro Deberia funzionarti Lleva a live stream Non è non live, è un video, chicos Un video, un video Un video Un video di 4 minuti e 33 secondi La explicazione di lo che è il Mates Mathematically Per fare un esempio E' un esempio di Mates Mathematically Puoi leggere nella descrizione Sì, cosa sta a dire Hey Nadim Nadim, ciao Credo che il prossimo match Sì, è l'ultimo Oh, che codice è da Perché non lo scriviamo Niente, no, no, è l'ultima partita Ah sì, ah, il prossimo match Sì, è l'ultima partita Sì, è l'ultima partita Ciao, Gabi Vale Dice Gabi Solo vengo a dire Che non mi ha ido del clan Solo mi cambié il nome Soi il figlio di Gabi Con un altro nome Sì, è l'ultima partita Che stava jugando in un altro In un altro juego Stava jugando in questi giorni Me parece Eh, può di passare Hasta che non hanno bisogno di pagare il cambio di nome Poi quando hanno bisogno di pagare il cambio di nome Come in qualche piattaforma Veras che è mad Sì, Gustavo 2 Gustavo S Exactamente S Però non è il di che parella pinte più Sino Intentare Pintare La misma quantità Sia molto o poco Però la misma quantità Intentare che a la mitad Más o meno Grazie, Daki Ma è tornata Ma è tornata Ma anche parlate spagnolo, Daki? Ok, se Gustavo vuoi anche Siamo appuntati per fare Lo faremo in off-line In stream per il disco Sì, questo è un piccolo contenuto Sì Hello Vanilia Fumo Vanilia Che che tu non aveviste molto affinità Sì, stavate Pintando di due mani Diferenti, la verità Ah, vale, Daki Daki ha parlato spagnolo e inglese Perfecto, perfecto Vamos a reiniciare la siguiente Sì Entonces, lo bueno De la nostra comunità E' che, in serio Chicos tonti Non possono restare Se vanno O non si subscriben Perché tutti parlano Dose idiomas Tutti hanno più o meno caratteristiche molto similiari Tutti hanno quasi la misma arma Enti, sono cose che parecchano che... Gustavo Se tratta di averiguare Quanto sois affine con un altro giudatore In funcione di se consegui Pintare il mismo numero di superficie Es decir, se lo otro pinta 45 Tu intenta pintar también 45 En cuanto al porcentaje, no? Oh, Bon! Ja, 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 ja Bon! Bon! No le dices, Loli No es verdad Si, Emma Bon! Two time Two time You kill me I confirm No le creas, Loli No es nuevo Ay, Carl No le creas Es mentiroso Yo ahora Tenemos que reiniciar, eh? Vale, sí New room Allora lo scrivo ¿Cuál va a ser? Bon! ¿Qué cazzo es Bon? ¿Qué cazzo es Bon? El código ¿Vai? 3,7,9,1 A ver Sono sempre difficili i codici, eh? No, Loli lleva muchos meses con nosotros Solo que Está adicto a Animal Crossing ¿Has capito? ¿Qué le digo? Squiddy Hola Squiddy Welcome to the stream A ese tienes que saludar A Squiddy Y hola, Amanda Bienvenida ¿Qué tal estáis todos? Amanda Un segundo ¿Quién ha entrado? Jackie, Carl, Ayan, Sareta, Fanta, Jorge, Jackie, Frankie, Edmat Vale, modalidad Zonas plat ¿Verdad? ¿Gracias? ¿Tienes que esperar? ¿De dos centrales? ¿De dos centrales? ¿Qué sería? ¡Verdad, Saleta y Fanta! No, 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 Saleta no Si no me ammazza ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Alma de Frank! Claro, Loli, hay que ser rápido Dito, il tuo internet è troppo veloce, hai arrivato l'ultimo L'ultimo e l'ultimo Ma che parti no ragazzi, quasi gioca A giocare si ha detto, se no facciamo entrare l'altra gente Scusate che lo dico così, però c'è gente che non sta entrando Vanno a occupare solo il privato? Mira Amanda, sì, sì, vanno a occupare molte volte il privato perché se no non abbiamo spazio Dilla, continua Per i amici? Non ho capito, non ho capito come stavi dicendo È buono, per favore Io e me Non posso Vabbè, amen Amen Amed Non aspettare i godi Come voglio parlare tanto idioma con la bocca Con la bocca, il lavoz, tu in pietra E poco a poco veras che vas aprendendo molti, molti idioma Eh E questa pregunta dice che sei la Tibone Tibone, mi chiedono, si può bannare un mod? Certo, credo che ha passato desapercibido, però prima ho salutato a un Nacho Si, a un Nacho e anche a Vanilla Beh, anche a Andes, sì, sì Ma queste saranno le persone che entran, dicendo l'ho E poi si vanno, sperando che un usuario mira il canale e se iscrive, no? Se subscribe, claro La invitazione ha caducato, la invitazione? Para? Para Discord o para que? Puede ser Nacho? Non, non può essere caducato Alla Sperare che non mi dica di che No, la respuesta la sabemos Loli La sabemos desde hace mucho Po 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 Tararara 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 Boom 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 Nooo La invitazione è un poco Però Nacho mi suona un po' la logo O qual è un altro Nacho? Eh, Nacho Che invitazione parlare, porfa Hola Victorin Victorin Eccolo Ray di Mario Kart El Ray Si Si la di Discord Jolini Ya caducato la otra vez Ma come? Ma come se è la lunga questa? Io credo che ora la di Discord Antes non avevamo problemi E da ayer caduca la da Ma perdona eh Ma se tu le ti 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 ti? A ver Pero io come io sto dentro Igual A ver che raro ora lo cambiiamo, Nacho, grazie per avvisare mire che ayer dopo le 12 di nozione lo abbiamo posto nuovo allora tranqui, Victorin qui siamo Zepp, non credo che giocheremo in Rocket League siamo davvero noobs no, può essere che sì non lo so, oggi è questo non lo so, più tardi magari dopo, in the evening o non so productive hours non hai avuto il Rocket League Pocasai? Loli, puoi mirarlo sta scritto nella descrizione di quello che tratta e ma so meno si può entendere sì, Loli, miratele, miratele a uno, così lo entiendes meglio che io credo che hai 5 video di Mates Mathematic League sì io credo che ti può divertire a questa ora tutta la persona che l'hanno intentato di fare si hanno divertito sì quindi sì, già salì, dicono Nadia, questo al dedo medio al dedo medio è solo lo mio faccio fare lo giro no, perché pensano magari che ne sono altre sì, lo so che cattivo quindi chi è Nacho Nacho gli diamo i permessi come amico e come spagnolo sì, Vittorin nel minuto 27 di questo stream e non è ciò che nientò è un ritmo proprio Carl aiuto bastante bene qui sono stati l'ultimo Infante e Carl sì, sì maidsmatically come vei abbiamo scogito un nome molto facile di pronunciare sì, Vittorin bene, non passa nulla vai a tenere il momento 600 non ti preoccupi non c'è altra cosa non c'è altra scelta ragazza mia allora Amanda io ti posso dire io non c'era parlare inglese ma so meno ha hace due anni non c'era parlare spagnolo e ho apprendito così di mal come me ho apprendito a parlare in tre anni quindi non lo so si tarda quanti gani tu hai di apprendre un idioma exacto non mi piace la chiamata del Discord non c'è chiamata in Discord Nacho ora stiamo in stream se è a lo che ti fai Sara Frank Daki come on madonna madonna hello everybody welcome to the stream hope you're enjoying who do you want in Smash Bros who do you want in Smash Bros who do you want in Smash Bros yes madness you're with dog si Amanda hey I'm new hello new friend how are you newb madonna come se llama what is the name of this guy newb madness Gustavo en teoria si pero eso no es la finalidad del juego porque entonces estáis demostrando solo que no sabéis jugar que sois muy listos pero que no tenéis ganas de poner un poco de como si si no quiero decirlo tan vulgarmente poner un poco de empeño en esforzados a llegar a la misma superficie pintada que eso es el verdadero reto de eso hay un tedesco que habla en el ahí hola steven no claro puedes jugar puedes suscribirte y en la descripción encuentras nuestro freudnico entonces simplemente add no por favor crash bandicata o crash bandicata en smash en smash 5 si 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 quieren bah si en ingles pero bueno i wanna i wanna see other time too snake the metal gear metal gear solid nacho creo que te tenemos que explicar algo los streams no se descargan tú te quedas aquí en youtube o en youtube gaming a verlo luego si que es verdad que hacemos cosas privadas streams privados por discord pero bueno eso ya se anuncia en discord es más para mantener en contacto a toda la community para que cuando nosotros no estemos online vosotros os podéis organizar para jugar juntos etc etc yo no no riesgo propio si, potremmo mettere come regla che si deve arrivare al centro almeno non c'è regla non c'è regla, però è che lo guai è intenzialo a pintar wow troppo stai jugando obligados a recolectar armejas si, Vittorin, exacto quanto nos gusta si, mas o menos hacer bueno, pintar, yo que sé vale, Gus vale, Gus non sai che ora è la dose ma non svegliamo la dose, tranquilo si non l'ho visto arrivare oh my gosh vale you and me you and me, just a bee you wanna find me to see na 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 inventate lyrics forever na 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 io che non sei l'inglese cantare una canzone in inglese bellissimo dimmi se chiarete canto una canzone in spagnolo ma in inglese you and me, just a bee you wanna feel na 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 e poi c'è il na 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 che fa la differenza wow frank 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 quando reiniciis la sala la siguiente si la siguiente si la siguiente round was the new lobby was in the new lobby no, it's in the new lobby if Cloud and Bayonetta can be in smash so can crash bueno ayuto conversación de gaybers yo esto no entiendo oh oh como has escapado una madonna Amanda bienvenida y se juega a la switch recuerda ricordate che tenemos el código en la descripción si tu ves en nuestro discord cioè puede somos más una comunidad nosotros no sé se lo has visto pero vamos a jugar juntos hacemos cosa también por separado del live si entonces ti digo si quiere disfrutar de un buen momento sabes que aquí estamos y además en discord tenemos las conversaciones divididas por idiomas te vamos a dar los permisos para que tú también puedas encontrar a jugadores de tu mismo idioma y sepas los juegos que juegan cosas así algo que ha pasado al final yo quiero hacer vídeos con ustedes dice Nacho como como no lo sé como que no se acabó el nuevo mapa es esta noche al final esta noche esta noche pero el arma sí no no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé porque ok no lo sé no lo sé es un juego es bello bayonetta la bayonetta piace un botte di persone sí 6 4 10 vai nessuno sa giocare con il gol di noi 6 4 10 6 4 10 the code e so presupponemos si ah buah i have to accept the friend request ay es verdad preciarás al sky sorry new friend i will accept you in one match se los amigos nuevos son españoles perdonai intentare de acertar la amistad en un partito what? ahah si dine que l'ultimo dine que se on me mette lo spettatore perché altrimenti ne preoccuparsi si tranquilos people the last ones to enter have to wait los ultimo sin entrar tienen que esperar chicos como perdona espera no lo entiendo esa si explicó que a mi me dan permiso para hacer videos o directos nacho nacho no te entiendo perdona no se que a que se refiere aquí jugamos con las personas que suelen estar por aquí por los streams alguna vez grabamos algún video si si que es verdad si grabamos un video y pero te digo que vamos a grabarlo con la persona que esta en discord entonces el que ahora esta en discord se quiere contactarnos en discord podemos hacerlo por ahi si el arma no se no no se no no se no pues parece que no victorín no se yo tambien pensaba que era antes el que era? lo del arma esta cosa? si pero siempre de viernes no? al final en fin en fin patati hola jaime no no lo so eh perché almeno si expresa correttamente eh almeno leggi tutto in una volta sola si e non come altri che scrivono in 50 occasioni differenti dici una cosa ma la dici basta oh ah è l'amanda vale l'amanda ahora deberá que te aceptamos si 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 esta vez nos acordamos tranquila 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 porque si se voy a a chitar ahora puede ser que se cae la luna porque si estoy bastante lleno de creo que hay correlaciones entre los amigos que tu tienes si y cuanto tiempo necesito por ejemplo de no lo se hola lo so lo so lo so ma non posso consumarlo adesso se arriva qua adesso qua se nessun jet e gli apro la strada andiamo 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 oh oh ma che ti lancia indietro questa cosa cattiva oh e l'ha perso non ci credo tranquillo tranquillo è nostro è nostro è nostro è nostro è che la strada del diretto alla tre della noce io pero han cambiado lo antes hacían cada viernes pero siempre las tres de la noche qui en europa in america era por la mañana no creo io devo andare su a manzare con il cecchino perché inizi a starmi talmente sulle balle sopra no 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 troppo sopra dov'è il bazookarp? dov'è il bazookarp? no no che c'ho dietro ce l'ho un culo oh gosh ok la una la una la una pues son las 6 de la tarde si 5 horas de diferencia no? si en america vamos vamos si si pues a mi la arma me sale cuando enciendes la switch en las noticias generales me sale que es un nuevo tipo de paraguas que tiene novedades pero el mapa no se de nada Ah sì? A noi quando abbiamo incendito no, credo. Hace un'ora. Ah, ok, quindi Amanda è in un altro lato del mar. In America Latina. Aiuto, aiuto! Estanno per comere, eh? Estanno per comere. Si cresciate a male. Nananana. Nananana. Uuuuh! Madagascar! Bueno, chicos, ten un poco de paciencia, en que, en total, es un nuevo mapa, pero luego nos cansamos todos enseguida. La tenemos todos por 4 o 5 días, y luego nadie más la tiene. No, 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 no. Ma si son tipo... eh... Paraguas. Ho tornato Fanta! Non ci credo! Cosa ne è successo? Bah! E' il mio gemello malvagio. Eh, scherete! Siamo felici che Fanta è tornato, quindi... A me non ci ha mai fatto cambiare il nome, eh? No. Mi sa che per quello è ritornato. Eh... Stamattina ho fatto provare Mario Kart 8 Deluxe a mio padre e poco fa mi rompeva... che volevo giocare! Si? E' Cesaretta! Si! Eh già! Pensavi, no? Li faccio giocare così, mi fa giocare più la Switch perché capisce che non è una cosa bella. Invece adesso lo vuole giocare lui! Olè! Macello! Io non ho! Io non ho! Non è la vecchia fattoria! Ia ia ia! Uuuu! Pam 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 pam! E' un ritmo tropical! Ah! E' ora! Olè! Olè! Ah, poi mi ha detto è molto bene, eh? La alma secundaria e la speciale! Molto bene! Quando reinici la sala? Ora! 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 Ora sì che hai che cerrar! Ora sì che hai che cerrar! E' ora sì che hai che cerrar! E' vaonnos! Antes di tutto, la mura! Entonze! Benvenida! Amanda! Amanda Knox! Mi dai un po' di acqua! plis! ragazzi bevete acqua ragazzi bisogna bevete acqua adesso e l'acqua mi sento malinconico il codice è 0001 io uso crackers oddio Fanta i miei si preoccupano che giocano solo a videogiochi per bambini sta scritto Peggy 7 ma ciò non significa che ho 7 anni io si si magari la gente sbaglia pensa che 7 è l'età ricomendata per giocare ma è l'età ricomendata per iniziare a giocare è il minimo per cui puoi giocare è come nel film qualsiasi cosa qualsiasi storia di queste me l'avevo fatta io questa avete canta spara pa 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 maledetto gemello malvagio no non potiste entrare Amanda holiness iniziamo cada due e siamo molto veloci e siamo molto veloci siamo molto veloci e restiamo il lobby in due match quindi non preoccuparti ragazzi pacienza ragazzi in breve breve e iniziamo la nuova e io odio splatoon proprio per questo perché ha puesto solo 4 persone e 4 persone e non potia poner 6 e 6 credo questo non ho capito molto bene perché lo fa perché non abbiamo servitori proprio non ho capito ma non ho capito la maggiori delle cose quindi è un grande rosso e silver do dog use hydra splatling oh gosh no che è che è non ho capito oh god fidensi che è che è io non lo so non lo so questo nome in inglese in inglese è che è che è che è capoeira non lo so come è papoeira papoeira non lo so chiamati non lo so la con le flami Nella vecchia fattoria Ia ia oh I don't know Po che sai Po che sai Poi Te lo di Si come Però esa è la idea Che entrano Che stanno attento Come questo è un minecraft E' fanta Puoi aspettare sicuramente Fino a molto Ma non lo so Non lo so Non dire mai cose che non sai Se mettono minecraft in offerta Il mio cervello In switch In switch Si Non su pc No pc no Ma non mi interessa Ma il gioco pc Ma è tipo altri giochi Che sono tutti in uno Che tutte le piattaforme Giocano in un gioco No cursing Hello Hello Sono Luna Hola Ciao Welcome to the stream Ciao Ciao Pizza Maccheroni Berlusconi Bip pidi Bip pidi Boom Zaki You kill me So bad Are you telling Are you telling to us madness If so It's okay So Luna No I also hope There's no cursing here Usually people get Get Well the messages Get eliminated And If people continue Banned Oh Sheeps 4 version De minecraft Yeah Te refieres Victorina Cuando no apretas En directo No Si si Esos creo que son Los epic fails De personas Que miran stream Seguramente No Que están ahí esperando Igual Después de tiempo Se han pedido No En directo Pocket edition Madre mia Ah tu Ce l'hai Le 4 Le 4 Ma anche Per switch Ce l'hai Quindi Ma c'è Per switch Si no Si Cocchino Oh Ma Baffa La saretta Vero Si I send Your picture Of Hydra Splatling On discord Oh I will watch In the middle I Post Minchia Perché non arrivo Fino lì Saltando Da piccolo Ci riuscivo When I was young I made it Now I cannot Do it anymore Guarda Guarda Of course You may join If you are not Friends Yet The code You can find Are you friends Or not No 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 The code Is in the description Of the video The friend code On the cellulare Si I will watch I will do Guarda What I saw Now Ok Then Others Revenge Ok The last Thank you Salt I And Zaki Out Out On the street Boom Zona Splat Otra Beh Chi era Dell'altro De l'altro Equipo Io ho vinto Chi era Donde sta il nome Espera No Io non sto qui No S'ha ido Credo che si C'è un o Non sta male And The youtuber Have to wait Because The other guy Bese a mirarla Hydra splatling No Non lo tengo Già Ah He hasn't got The hydra splatling Non c'è Otra amici C'è Ho guardato No Dai L'arma Che ti dice In mad Cosa c'è Hydra splat Ok Già Is a little bit Confused Guys Just a second Bueno Es que Los snipers Victorin Pero También Ellos Se cansan Después De un rato Minchia Mira que bella Guau The splatling Is cool Looks fine But Ah Es un charger No Que le haga così You use it Ok En mad Press a En mad No Si a sta Anche patatoso Poca sai Per me Poca sai E patatoso Holy Holy Ships It's not a charger Oh No charger Is a sniper Sorry Sorry In italian Come si dice For the ones you have to charge Just to shoot Carica Caricatore It's difficult to say Come si define Eh la clave Sarà la prossima Dilli che la No Non sarà la stessa La clave No Dilli di Di fare una stanza Dai Eh boh Guarda tu Che ha la spagnola Come si chiama Amanda Amanda Ah no 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 È vero È la prima volta Nello stream No 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 Non so come fanno No la clave Non è la misma Però mirala Stava lì Quando la mirai tu La mirai un tot Si intende È un pochino di fortuna Tambien Però tranquilla Che creo che Pasa a parteciparci Sì Sì Tambieno Stiamo bastante lleno Normalmente Solo è Solo è Aver mai Spera No no Neanche Non è neanche Da chi Vuole star The lobby Vuole star The lobby In a In a In a In a little bit Donna mia Io quando che cazzo sono Sì Muy attenta Amanda Però io verás Che lo consigues Mira Ora In breve 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 Termina In Il partito Per loro E 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 per loro A vero New lobby Ah ok Ok madness Sorry Lo stava usando Para che lo viena Eh ma stavamo guardando Sotto la chat In quel secondo salto Siamo veramente Focusingi nel chat Nel momento Sorry Stai lasciando PokéSai Ok Buongiorno Buongiorno Grazie per giocare Mira Amanda Facilita Venga Rapidito Rapidito Mia sorella Mi ha fregato La maglietta Dei Pokémon Firestitch Hola 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 Depende mucho De la hora Victorin Es más por la hora De este momento Creo que Como estado general Lleno La richiesta La richiesta Ti ha arrivato Una richiesta No No Which request We have Si che lo tiene Te dice Yes we have A request Sorry I said you We have 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 Now I have Crashed The stanza Look at Amanda Amanda Is entrata And you have Crashed No No Ma Ma Por qué Vengo El gol Ma Vaffan Cool No Vengo Vengo El gol ¿Dónde Estás Amanda Ahora verás Todo Rápido Mira Mira Ahora Se conectan Todos juntos De golpe Si Me ha Fata Ushire Full Dice Sol Uno Doesn't look Full En serio Has Hecho Que Pasa Una cosa Rara Creo Hola Firestick Bienvenido Otra Vez Amanda Lo has conseguido ¿Has visto? Estoy haciendo rant Ah Muy bien Buena suerte Para subir de rango Ducky 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 And Goose You are the last Two people To enter You wait One match And the Next match You play Yes For sure So Don't go away Spectate And wait Please You should not be sad You should see that as an opportunity To watch other people's play Pick up their tricks Allora tanto qui tutti fanno una partita sola Non c'è problema Diglielo Così proprio di claro Non è che lo facciamo con lui E con gli altri No no And it's always the rule of always People If you stay a bit in our streams You will see That we always do it like this Po 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 Mi vida Cuplido Sogno Sogno Inizia dove va Che io devo aggiungere una cosa qua Cinque And mud Dark And mud Emma is sleeping Wake up And mud Wake up Yo You're mad Ok Lobby's getting crazy It's me playing guys Be patient No no You were asleep really And mud We're in the same team Ah ok It's some of this Stuff here Oh And I splatted Someone called Kuma Kuma ti ha splattato Oh Sareta brava Te diventando troppo brava Con questo cechino In telemodiarti Sappilo No Scherzo Ma non troppo Hanno già detto oggi Che in questo stream Ci sono troppo Troppi Sniper pro E che le stanno togliendo la voglia Oddio Immaginati Eh perché noi siamo youtuberi We are gaming Gamers Gamers We are not youtubers So we have a good company Of player With us Questo è il problema Dove sono tutti? Yep Voilà Oh mio dio Fine 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 Quando poi non guardi Oh mio dio Io ci ho provato a ammazzare Sareta Però non ci sono riuscita Ma almeno Li ho fatto indietreggiare Un pochino Oh Con la paura 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 Vieni qua No Sareta No Sareta Non mi prendere No Sareta Sareta Mi ha fatto scappare Adesso muoio Sì E va valse la pena Ho detto bene Balsa Bene Oh Frank Mutus plat Andiamo Andiamo Sei metri Cinco metri Quattro metri Grande 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 bu 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 ma bufu è un rigolo chi è? sarete doc? mi fai essere spettatore? eh sì ho fatto bene ma non ho fatto tanto bene who's that you're really really paying attention to the to the stream I see madness I'm not bad I go to bed go in come here why doesn't he give it to me? why doesn't he give it to me this message? what message? are you in another stream or what? what message? what? the I'm not good at no sé qué where is it? I'm not this message doesn't get out of me look look how strong how weird but it's not even I've never been eliminated no no I'm not I'm not I'm not I'm not no but you see me in mine what is it? the coda the coda is a part of the arm so que sirve para articularlo ok we're watching you ok thank you madness bye nosotros también Amanda por eso nos gusta ser espectadores así que no te preocupes de hecho no nos gusta para nada pero bueno cuando toca toca jeffrey le crisi leopardiane jeffrey jt boss no so such a long time anyone gonna do a long long time go mad mad go go buffo go use that charger no sorry jessica inventing names bapba papabba papabaa bierapa pap bass ducky we're still watching endmatch just a second yap we go yake we water ok 역os waters smack in the water enough 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 po waa duckie duckie using what a brush calamar malaman jo coda ja Surviv buscar e noi quasi siamo a cerrarla sì, no? in breve siamo a cerrarla sì, perché altrimenti non siamo a comere questa notte non ho hambre non ho hambre non ho hambre non ho hambre non ho hambre, chico non ho hambre Jeffy, uno dei ultimi match sarà sì ragazzi, abbiamo to stop the stream perché abbiamo to buy something to eat abbiamo to make a shower no? and strange thing we do real life people's stuff real life, sì two hours and a half we have started the live stream so right now I think it's better anche se non sono propriamente convinto o no? o no? o no? io vorrei a almozar appena dove stanno a che ora è allà? oh, sono le sei e meida di la tarda entonces è ora di moverse per pensare in la cena e altre cose non ci sono il concert che miro ok Ducky mi piace come giro con il brush voglio anche vedere Amanda voglio vedere un po' Amanda che anche ha arrivato nuova oggi per qui a ver che tal Amanda che già ci ha detto che non è non sta molto acostumbrata a una bongol però non passa nada un sacchetto di mori dove sta giocando oh 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 non sta peccando un sacchetto di mori e perché no? eh perché c'è lei il redistratuto oh mio dio valla in Spagna in Spagna it's me Mario it's me Mario dicendo in Spagna che poco senso ha mongol gol mongol gol coge le salmejas mongol gol no ti fate pittare ole 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 ese incontro bueno Amanda sta paciente le gusta observare un po' lo che pasa abbiamo dato il giro va 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 volete solo girarmi ta 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 oi come come ha come ha come ha sta facendo venga l'acqua tu perci ah che riuscita ui 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 ah che dio madrid no no che madrid barcelona 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 ciao sve oh sve ciao bella ciao bella ciao para papira toma te sedo il control come stai è un ritmo tropical vale fai prima a chiudere il negozio serete sono il quinto settore vediamo anche noi anche noi anche noi anche noi iniziamo a avere fame si è arrivata proprio alla fine dello stream ma dove andiamo a comprare che oggi è giorno di festa ma è tutto chiuso si io stamattina sono scivio ed era tutto chiuso ma certamente tipo domenica proprio tipo tutto chiuso e andiamo di là dal pochi si non volevo dirlo così dai guarda abbiamo appena realizzato che è tutto chiuso e dovremo andare a fare spesa perciò diciamo che non va né bene né male diciamo che dobbiamo chiudere uno stream con 20 persone online si fa niente fa niente tutto bene there will be another stream madness yeah in this night nightmare nintendo madness nima nintendo madness amanda tranquilla a chi nadie va a codicare nadie no non te preoccupi bye 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 no mi ama lei che tal è madre mia bene ragazzi per tutti gli amici italiani grazie per essere stati qui anche oggi pomeriggio l'abbiamo passata senza non sai parlare inglese allora guarda tranquilla per questo ci sono io guarda sono solo tre anni che sto parlando inglese ma diciamo che negli ultimi tre anni ho imparato a parlare spagnolo perché vivo in Spagna poi mia moglie mi soddisfa con altre quattro lingue perciò non ti preoccupare che non fa niente se non so parlare inglese e la mia domanda è quante lingue sai tu e quanti anni hai così meglio dai comunque raga comunque raga senza senza tanti sotterfugi su cosa si fa la live stasera vi voglio salutare a tutti vi ringrazio per essere stati qui con noi ragazzi grazie a tutti un abbraccio enorme a tutti e grazie per essere qui con noi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti per giocare siamo qui con alcune ore a notte nel nostro tempo ok quindi spero che vedremo l'altro specialmente le persone inglese che ascoltano adesso che è Madness e penso e quindi iniziamo Amanda Quervo Fanta Frassapo Frank Frank Gustavo Kuma e queste qui sono due Jaime qui due Jaime Nadine Saretta Nintendo Sveli Victorin e Tibon grazie grazie thank you thank you so much so bye bye adios a todos chicos